Musica E' morto a 72 anni Ben Cross, attore inglese, noto al grande pubblico per l'interpretazione del personaggio di Harold Abrams, atleta olimpico, tra i protagonisti del film del 1981, Momenti di Gloria, pluripremiato agli Oscar, noto al pubblico anche per la parte di Sarek, il padre di Spak nel reboot del 2009 Star Trek. L'attore si è spento in seguito ad una breve malattia, darne notizia alla famiglia attraverso un comunicato pubblico. Poche settimane fa era morto un altro componente del cast di Momenti di Gloria, Ian Holm, che nei film interpretava la parte del coach di Harold, ovvero Sam Mussabini. Grazie per la visione!